musica musica prendilo e dai non rompere i coglioni e prendilo e scassano cazzo e ma fa un gule e dai non rompere i coglioni c'è un giocato che si scrona dai dai e gule io non ce la fa tu hai sconacchiato che non ce la fa e te lo so da oh cazzo vedi e gule damma e ti riprendi no abbiamo esagerate abbiamo esagerati no dai 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 prende acqua pre anche ci arrivi da qua e chiami cosa basta ti ti ma fangula è uno scherzo è un intercalare per dire sia un giocherellone sia un giocherello non so che tu sia giocato eh fammi capire cosa però ah spit eh no no eh no è negativo eh 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 no negativo non hai capito avvicinati non hai capito avvicinati non hai capito oh cazzo oh cazzo oh cazzo oh cazzo che giocherellone oggi sono così oggi sei esuberante oggi sei esuberante vabbè e allora guarda che sguardo dimmi ti chiamo all'attenzione c'è il mio telefonino lì eh ah eh tu l'hai visto l'ultimo che hanno fatto aspetta poi me la dai quella poi me la dai poi me la prendo aspetta vai tino sblocca perché tu farlo vedere a tutti ma sblocca lo tu ah si è sblocca quando le ragazze chiamano oh ciao buon simanà buon simanà buon simanà dai rifà il fare il come fai tu ah 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 hello 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 uno spettacolo uno spettacolo uno spettacolo no no non andare sul whatsapp che hanno tutte le cose di youporn ah beh quello è meglio a me io ho fatto che potessi sblocca no lascia pelle tu atti sblocca è singola a 56 anni e quindi passa le giornate ah ecco mi ha detto c'ha tutto il telefonino scarico di quella roba come te del resto ecco perché ve lo intendete ehhh no ti devo parlare il dialetto di barber che sei andato d andami della famiglia del capottato d andiamo la famiglia dal capottato perché tu due signori e hai qualcosa in italiano ma oggi non parla più il bambino il cornetto deve essere forte ma io ho mangiato ma io ho la formacocca ah la tena tosta ma non la tocca ma io ho la formacocca ma io ho la formacocca ma la formacocca si cala si cala perchè il barbeck non si cala ma io ho la formacocca e io ho la formacocca e allora parla di te spunti con me e io ho la formacocca e io ho la formacocca e io ho la formacocca ma tu sei per te quando sei questo affronto me lo fate col sangue col sangue intanto raccontiamo intanto raccontiamo che ha detto tu devi venire alla pietra dura del blocco del lungomare per fare un faccia a faccia vediamo quanto vali sei andato a barivecchia di cui io sono parte integrante sono marcio nel sangue ce l'ho a barivecchia e ti hanno cappottato ti hanno cappottato hai fatto quella gag con il cantante la turista ma poi sei rimasto non sei stato capace di concludere poi o me la dai o me la pig scegli tu ma 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 ma